Capitolo diciottesimo Nel tranquillo villaggio, quel pomeriggio di sabato non regnava l'allegria. Gli Harper e la famiglia della zia Polly erano in lutto e in lacrime. Vi era una quiete insolita dappertutto. La gente attendeva i propri affari con aria astratta, parlava poco e sospirava spesso. I ragazzi giocavano senza animazione e dopo qualche tempo smettevano. Becky Thatcher si sentì sola e malinconica nel cortile della scuola deserta. Non riusciva a trovare conforto da nessuna parte. Mormorava fra sé «Se almeno avessi ancora quel pomo di ottone che mi regalò! Non ho nulla, nulla di suo!» E soffocò un singhiozzo. Poi, fermandosi, disse «Come si stava bene insieme e ora egli non c'è più! Ah, se potessi tornare indietro! Non gli direi più quelle parole! Non gliele direi certamente! Non lo vedrò più! Mai più! Mai più!» Si allontanò, mentre le lacrime le scorrevano giù per le guance. Incontrò alcuni compagni di Tom e di Joe e tutti insieme si misero a parlare di loro, ricordando quello che avevano detto, indicando i luoghi dove li avevano visti negli ultimi tempi. «Io stavo qui e tu là!» Diceva così, rideva. Chi l'avrebbe mai detto? Le sue ultime parole erano profetiche. Non me ne accorsi lì per lì, ma ora...» Sorse anche una disputa su chi aveva visto Tom e Joe per l'ultima volta, e tutti reclamavano l'onore di essere stati gli ultimi a parlare con i due scomparsi. Un bambino, che non aveva argomenti migliori per farsi invidiare, disse «A me Tom Sawyer un giorno diede le botte!» Ma non c'era da gloriarsene troppo, perché molti altri potevano dire lo stesso. Quando il mattino seguente la lezione di catechismo ebbe termine, la campana della chiesa si mise a suonare a morto, anziché alla solita maniera. Era una giornata molto tranquilla, e il triste rintocco era in armonia con la natura. La gente si fermava nel vestibolo prima di entrare, per scambiare sotto voce le impressioni intorno al luttuoso avvenimento. Una volta entrato in chiesa, nessuno bisbigliava più. L'unico rumore che si sentiva era prodotto dal fruscio dei vestiti delle donne, quando si mettevano a sedere. Mai c'era stata tanta folla nella chiesina. Dopo un'attesa silenziosa, entrarono la zia Polly, seguita da Mary e Sid, e la famiglia Harper, tutti vestiti di nero. L'intera congregazione, compreso il vecchio pastore, si alzarono riverenti in piedi e attesero che i colpiti dalla sventura prendessero posto nelle prime file. Seguì un altro silenzio, interrotto solo da sospiri e da soffiarsi di nasi. Poi il pastore alzò le braccia e cominciò a pregare. I fedeli cantarono un inno dalle parole «Io sono la resurrezione e la vita». Nel suo discorso il pastore esaltò tanto la bontà e le virtù dei ragazzi scomparsi che tutti i presenti sentirono il rimorso di non aver visto in loro quando erano in vita che difetti e cattive qualità. Il pastore narrò anche qualche episodio della loro vita per dare risalto alla loro gentilezza d'animo, alla generosità, alla bontà che li distinguevano, e la gente si rammaricò di aver giudicato quei fatti come birbonate degne di castigo. A mano a mano che il discorso diventava più patetico, la gente dava segni ai manifesti di commozione e da ultimo tutti, anche il pastore, piansero insieme alle due famiglie in lutto. Nessuno badò a un lieve rumore che veniva dalla galleria, ma poi la porta della chiesa scricchiolò. Il pastore alzò gli occhi lacrimosi dal fazzoletto e rimase trasfigurato. Prima un paio d'occhi, poi due seguirono gli occhi del pastore, poi tutta insieme la congregazione si alzò e guardò verso il fondo della chiesa. I tre defunti avanzavano a passo di marcia, prima veniva Tom, poi Joe e ultimo Huck, stracciato e confuso. Erano rimasti nascosti nella deserta galleria e avevano assistito al loro funerale. La zia Polly, Mary, Sid e la famiglia Harper si gettarono sui loro cari ritrovati e li soffocarono di baci. Il povero Huck rimase invece solo e abbandonato, non sapeva che fare e dove nascondersi davanti a quella moltitudine per la quale egli non esisteva. Stava per squagliarsi inosservato quando Tom disse «Zia Polly, non è giusto! Qualcuno dovrebbe occuparsi anche di Huck!» «Ma certo! Io sono felice di vederlo, povero bambino senza mamma!» E le effusioni amorose che la zia Polly gli manifestò contribuirono a rendere ancora più imbarazzato e infelice il ragazzo. Dall'alto del pulpito tuonò la voce del ministro di Dio «Rendete grazie al Signore! Cantate! E mettete tutto il vostro cuore nel canto!» Lo fecero e mentre le voci si alzavano robuste e piene di entusiasmo, Tom Sawyer, il pirata, si guardava attorno e vedendo le facce degli altri fanciulli che esprimevano l'invidia, confessava a se stesso che quello era il giorno più bello della sua vita. Mentre i fedeli uscivano dalla chiesa, dicevano che avrebbero accettato di essere burlati un'altra volta per poter poi sentire un canto così bello. Tom ebbe dalla zia Polly, secondo il suo umore mutevole, più baci e scapaccioni in quel giorno che in un anno intero. Erano l'espressione dell'affetto che essa gli portava.